ma dov'è che sento rumore? dov'è? dov'è? no vabbè, no vabbè, ah non ho se il cocco e i biscottini al cocco, no vabbè, no vabbè ora mi faccio una bella coppa scelto, ma io me lo faccio, mi faccio una bella coppa scelto, avanti ora mi faccio vedere la coppa gelato scelto ah non ho se il cocco, ma lui dov'è? dov'è? ma dove sei spondato? da fuori, mi hai fatto il gelato? ti do un colpo di cucchiaino? cucchiaino da gelato scelto, vediamo avanti, poi dici che tutti compraci il gelato, compraci il gelato, vedete che bella coppa grazie, per me? per me o per te? con bastoncini ripieni di crema di cocco, ciao, a Mariano, io me lo mangio